Domenica, 21 febbraio, prima domenica di Quaresima. Buonasera, desiderò che impariamo a pregare, innanzitutto invocando lo Spirito, chiediamo al Signore di dirci le parole e darci i sentimenti adatti per la preghiera. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il tentatore si avvicinò a Gesù e gli disse, se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane, ma egli rispose, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei frutti, perché il ricordo di me è più dolce del miele, il possedermi vale più del favo di miele. Quanti si nutrono di me, avranno ancora fame, e quanti bevono di me, avranno ancora sete. Aver fame e mangiare. Aver fame e mangiare a sazietà, mangiare anche per golosità, mangiare anche quando la fame è finita da un pezzo, oppure non mangiare, non mangiare per capriccio, non mangiare per protesta, non mangiare per disturbi alimentari. Il pane, il mangiare, è un tema importante per la nostra quaresima. Ma non di solo pane vive l'uomo e Gesù conosce un nutrimento che viene da Dio, è la parola di Dio. E dunque mangiare per vivere, per vivere la vita eterna, vuol dire ascoltare, ascoltare per vivere, ascoltare per desiderare. Chi mangia la sapienza avrà ancora fame, cresce il desiderio del meglio, dell'oltre. E dunque in questa quaresima un po' di silenzio, un po' di fame, un po' di dolcezza. Preghiamo anche per coloro che hanno fame e non hanno da mangiare. Preghiamo per coloro che hanno domande e non trovano risposte. Preghiamo per tanti affamati della terra, in particolare in Etiopia c'è un'emergenza humanitaria che vogliamo raccomandare al Signore. Ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi commesso e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo, liberami dai pericoli. La Tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Buona serata, buonanotte. Grazie a tutti.